Siamo la Croce Azzurra di Buscate, in questo momento oltre all'ordinario stiamo prestando servizio in urgenza ed emergenza anche in provincia di Bergamo perché è la provincia sicuramente più provata e che ha più bisogno rispetto alla regione lombarda. Abbiamo attivato un servizio spesa e farmacia a domicilio dedicato agli over 65 e alle categorie con fragilità. Vi assicuro che nessuno si risparmia, i ragazzi non contano i turni e tutti si brodigano per alleviare sofferenze e difficoltà con un occhio di riguardo anche alla protezione personale. Raccomandiamo di restare a casa perché qua fuori ci siamo noi che pensiamo ad aiutare chi ha bisogno.